Sono 10.30 del 3 aprile 2024. Oggi direi che è la sagra dei lamboni per me. Quattacca, lega, scava. Mette di nuovo. Allora, siccome devo raccogliere questi lamboni, questi mi danno fastidio e ci faccio una cosa così sommaria. Intanto, qui sopra, ecco qui, una piccola legatura, una e due. Vedi, quindi, toglie lo spago e anche questi qua, in qualche modo, danno fastidio e quindi facciamo un'altra legatura così, o sarà fatta una migliore legatura. Vabbè, una piccola attacca qua. Ecco qui, un po' di... Allora, qua la furia bisogna lasciarla perdere. Uno, due, tre, quattro e cinque. Mandando con la mano così, qui in qui, vedete che adesso prima di raccogliere questo va meglio. C'ho la pazienza. Eh, eppure questi stanno apposta. Vedete? Quindi, stanno questi qui, questo qua, dopo Soleta e anche questi due, in qualche modo, danno un po' fastidio. Adesso, prima di raccogliere queste ceppaia, no ceppaia, questi bolloni si fa così. qui, vedete? Guardate, come ne sono qui, anche qui, a me interessano questi, anche questi qua. sono piccoli, sono piccoli, e più attaccaiscono. Ecco gli altri. qui, vedete? Ecco, vabbè, forse anche questo qua, guarda. Questo, e questi ultimi due. e quindi provvedo, noi portalo qua, al, a prendere. Facciamo così, si fa così, torno, torno. Sì. Poi si muovono la zappa così, e quindi questi dovrebbero, ecco qui. Questa è venuta, questa zolla. Prima fa così, se viene la zolla. Sì, anche questa zolla è venuta. Prendiamo questa zolla. Questa è un'altra bella zolla, vedete? Puro venuta. E ora ci sono questi, la faccio separata, sì. Questa piccola la faccio separata qui. Allora, quindi abbiamo, quest'altra piccola, però ci sono due lamboni, e anche questi qua. E ora, li porto di là. Sì. Stavala qua. Li porto lì dove li devo mettere. Allora, eccomi qui. Per me è un divertimento, è una passione. Poi, pensare alla piacevole raccolta dei lamboni, frutti di bosco, che donano tanta salute, è ancora più bello. Allora, ecco qui. Lo metto qua. Si vede? Un po' più distante. Allora, guardate com'è semplice. Allora, bisogna solo organizzarci. Mettiamo. Questa zolla, questa qui. Così. Poi. Questa zolla, la possiamo mettere anche qui. Eccola qui, guarda. Eccola qui, guarda. Quella con dei biondini ci sono. Adesso, prendiamo quest'altro. Eccola qui. E anche questo qui. Il pranzo è servito. Vedete? Con la raccolta è servito. Aspetta. Ma qui ce n'è una senza radice. E quindi, faccio così questa. Senza. Ecco qui. Vedete? Questa. E adesso qui. Lasciamo qui. Chiamolate. Anzi. Vorrei fare una cosa. Ah, qua devo... Qua devo procurare i tutori. Vabbè, adesso faccio sempre i tutori. E dopo vi faccio vedere, va? Comunque sia. Faccio con le mani così. Qua per non danneggere le piantine. Qui. Qui in mezzo. Le radici della granigna vanno tolte. Questa. Questa è tutta terra. Buona. Eh? Soprattutto. Mmm. Ce l'avrò con la mano. Vedete? Così. Prendiamo quest'altra terra. Eccola qui. Anzi. Facciamo con la zappa. Ecco qui. Vedete? Lasci sopra sopra. Mmm. Allora. Andiamoci una pulita. Allora. Mettiamo.